Grazie a tutti. 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 deve essere una dimensione di rivendicazione politica. Quindi il Pride è un Pride di tutti, non diamo delle istruzioni su come partecipare, men che meno su come vestirsi, perché ci sono state delle sterili polemiche su questo e ci tengo a sottolineare che questo Pride è di tutti, e il fatto che sia di tutti implica che ognuno deve partecipare con le modalità anche dal punto di vista proprio del come venire vestiti al Pride, che più lo fanno sentire se stesso a suo agio. Io per esempio mi sento più in imbarazzo in giacca e cravatta e non quando facevo gli spettacoli drag che mettevo i tacchi, quindi io mi sento limitato col nodo alla cravatta, mi sta stretto, però è il mio modo di vivere la mia vita e non ho la presunzione di lanciare dei modelli universalistici, me ne guarderei bene. Anche perché potrebbero cambiare questi modelli universalistici come dicevi tu e poi comunque in ogni caso la varietà che è la comunità LGBT e poi li potremmo parafrasare, è varia. È varia ma è varia anche la nostra stessa vita, io sono uno che generalmente tende a scrivere molto, scrivevo il famoso diario, sai che mi capita alcune volte che quando vado a rileggere dei pezzi che avevo scritto non mi riconosco, quindi? A questo punto io ti ringrazio per il tuo contributo, sappiamo che tra l'altro domani avrai un tuo impegno personale dove si parlerà proprio della storia, cioè tu sei, mi spiace dirlo, sei giovane ma sei la storia perché comunque l'hai costituita. Diciamo che mi salvo dicendo che ho iniziato da giovane, quindi sono la storia proprio... Condividiamo le panagrafie. Esatto. Domani parleremo in particolare della proposta di legge sull'omotransfobia e cercheremo di capire perché questo disegno di legge è ancora fermo. In compenso in Calabria il consigliere giudice Andrea ha lanciato di contro un disegno di legge regionale sul quale ritorneremo proprio subito dopo il Pride perché questo disegno deve essere arricchito dal contributo di coloro i quali operano ormai da anni. E questo invito mi è piaciuto tantissimo perché non è la politica che dall'alto impone ma è la politica che dal basso ascolta per proporre delle soluzioni che siano quanto più confacenti alle reali necessità dei cittadini. Perché ricordiamo che noi persone omosessuali siamo cittadini, paghiamo le tasse, qualcuno questo talvolta lo dimentica e quando sento persone che dicono ci sono altre emergenze, ricordiamo che le altre emergenze come la precarietà e tutta un'altra serie di situazioni di difficoltà attraversano anche le nostre vite. Quindi a quelle si vanno a sommare anche questioni afferenti alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Quindi ai noi dobbiamo avere le spalle ancora più grosse. Ringrazio Federico Cerminara, quindi Transgender, i passi del cambiamento, Cosenza. Ringrazio Federico Cerminara